Nelle scuole italiane al 10 ottobre si contano in totale 7.096 contagiati, di questi la maggior parte sono studenti, 5.793, 1.020 sono docenti e 283 sono personale non docente. Sono i dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione che ha dato il via da qualche settimana, basandosi sulle segnalazioni dei presidi, ad un monitoraggio sull'andamento del coronavirus. A un mese dei primi ritorni sui banchi le domande su quanto la riapertura delle scuole avrebbe inciso sull'onda epidemica iniziano ad avere qualche prima risposta, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, ha detto il Presidente dell'Istituto Silvio Brusaferro. Perciò è ancora più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico.